Grazie per questo spazio, sarebbe stato bello poter avere un dibattito con la lista avversaria che è andato a versare e purtroppo il loro rifiuto ci ha fatto perdere questa opportunità. In ogni caso pensiamo di aver illustrato chiaramente ai cittadini il nostro programma attraverso un opuscolo che abbiamo inviato a tutte le famiglie, disponibile anche su progetto snago.it. L'opuscolo contiene anche il profilo dei candidati. Noi diciamo che siamo la forza tranquilla del fare, ci trovate ogni giorno sul territorio, non ci vedete solo durante il periodo elettorale. Diciamo anche che siamo la forza tranquilla che unisce, lavoriamo per unire il paese, per tenere insieme le persone, non riapriamo come fanno i nostri avversari i vecchi fossati o alziamo nuovi steccati. Su di noi puoi contare, con noi puoi contare, questo è uno degli slogan che stiamo utilizzando e invitiamo sindora i cittadini a utilizzare l'opportunità di mettere la preferenza nella lista in modo da poter scegliere il proprio consigliere comunale. Da ultimo un invito, venerdì 5 alle 21, grande festa in Piazza della Pace con gli spaccabrianza, musica e balli. Ricorda, progetto snago dal 1995, lavora ogni giorno con la testa e con il cuore al bene di Osnago.